allenamento completato, andiamo a finire il nostro workout con un po' di stretching quindi andiamo con le punte bene verso l'esterno da qui andiamo a flettere un po' le ginocchia e andiamo a scendere lateralmente andiamo ad allungare bene il fianco, rilasso bene il braccio a terra, verso terra, da qua distendo anche le gambe scendo un pochino di più respiro, rilasso rimango in questa posizione, ruoto verso un piede, vado a scendere vado a stirare bene sia la parte posteriore che la schiena in questo modo srotolo lentamente, ritorno, fletto di nuovo le ginocchia andiamo a scendere dall'altra parte allungo, allungo bene giù rilasso, rilasso qua bene distendo la gamba, scendo un po' di più ruoto verso un piede e vado a scendere salgo, srotolo e ritorno, scioglio qua le spalle ok, da qua metto i piedi dritti scendo giù bene dietro, appoggio le mani a terra vado a stirare bene l'aduttore quindi l'interno coscia, le mani sono bene appoggiate e rilasso, rimango lì respiro bene sempre, mi raccomando sento bene qua l'interno coscia che si allunga ritorno, cambio, vado giù l'interno coscia che si allunga bene i talloni controlla che siano bene allineati tra loro rimani lì porta bene il bacino all'indietro torno su, mantengo tutte e due le gambe distese le apro il più possibile scendo con le mani a terra se voglio posso anche appoggiare i gomiti se riesco, altrimenti rimango lì sposto bene il bacino all'indietro in modo da andare proprio a stirare bene l'interno coscia gli adduttori anche un po' il femorale torno su e piano piano avvicino i piedi da qua prendo una mano e vado a tirare bene vado a stirare tutta la catena nel braccio quindi avambraccio porto un pochino su tiro la mano il braccio la spalla quindi mantengo la spalla bassa faccio il cambio prendo l'altra e tiro giù qua giù la spalla torno prendo il polso dietro e tiro lateralmente la spalla l'appoggio se riesco alla mia anca e rimango lì in posizione vado a stirare bene la spalla anteriore quindi vado bene ad aprire la postura anche cambio con l'altra porto dietro tiro afferro sentirai sicuramente un po' di limitazione su una sull'altra spalla ok ritorno sciolgo qui bene circondo la testa tiro lateralmente la testa rimango lì ruoto un po' la testa verso la scella e vado a stirare bene il tratto cervicale senza esagerare da qua porto un braccio fuori metto la mano alta mano bene che spinge distante sempre respirazione scendo e cambio quindi circondo la testa prima tiro il tratto cervicale poi allungo e palmo della mano bene che spinge distante scendo e rilasso sciolgo bene da qua cavallo una gamba sull'altra scendo giù bene frontale allungo mantengo la gamba davanti flessa la gamba dietro distesa la testa rimane bassa srotolo ritorno cambio quindi a cavallo l'altra piego la gamba davanti scendo giù allungo rilasso la testa rimane bassa srotolo la colonna e ritorno su sciolgo qua bene le gambe sciolgo le spalle apro chiudo bene le braccia e complimenti per aver concluso anche questo tuo allenamento ciao grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti